Il Consiglio regionale ha discusso le due distinte relazioni finali di maggioranza e opposizione sul lavoro della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, che si è concentrato sull'inchiesta CEU, sullo smaltimento illecito degli scarti chimici conciari. Mentre la maggioranza ha difeso l'operato della giunta regionale, la minoranza ha espresso forti perplessità e ribadito la necessità di riforme per il controllo dei rifiuti. Al termine della discussione il Consiglio regionale ha approvato la relazione finale della maggioranza e tre ordini del giorno presentati dai gruppi di opposizione. Il segnale è che la regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul CEU, non perché non è successo. È successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il CEU è una cosa che certo lo comprendiamo che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento CEU, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il CEU è partito l'indagine del 2017 e l'emendamento del 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del CEU. Questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del CEU. Io ricordo solamente due date. L'indagine è partita da Arpat nel 2017 e l'emendamento è stato approvato nel 2020. Mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui la giunta si è opposta rispetto al ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto che siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo così evitiamo che ci venga discorso tutto l'impianto normativo. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta Cheu, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione che è già la commissione esistente di garanzia e controllo che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo anti-usura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal consiglio regionale che sia lo stesso consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge, perché c'è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto, in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così e quando si può una legge si corregge. ARPAT ci dice, ci ha fatto capire nella commissione l'indirizzo che noi abbiamo tenuto fino a febbraio che l'unico ente, diciamo l'unico soggetto scusate, coinvolto dal punto di vista dell'inquinamento fosse la ditta Le Rose, la dottoressa Caselli ha stravolto l'attività che avevamo fatto fino a quel momento perché nel suo decreto dà una serie di responsabilità a ulteriori soggetti che non erano contemplati nel nostro lavoro, quindi si dice che anche il Consorzio Aquarno e ulteriori soggetti sono responsabili dell'inquinamento e questo è stato uno dei motivi che poi ci ha portato a richiedere una proroga perché volevamo andare più a fondo e capire. Per quanto riguarda l'emendamento, sì, le posizioni sono diverse, sono diverse dal giorno in cui è scoppiata l'inchiesta perché noi continuiamo a sostenere che in quell'emendamento, e lo ha detto anche un avvocato che è della regione toscana, è stato nominato dalla regione toscana, l'avvocato Ciari, fosse e lo è tuttora un chiaro tentativo lobbistico per avvantaggiare qualcuno rispetto a qualcun altro. Ascoltando la relazione della Presidente Meini, che è persona estremamente pacata e valutativa nel dare giudizi, parlare in aula di domande alle quali ancora non è stata data una risposta fa capire che sul legame tra la nostra terra e la criminalità organizzata c'è ancora tanto 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 da indagare e da scoprire. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del quadro di Santa Croce che ancora attendono delle risposte, perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo, non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando dei cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. Il fatto che la Presidente della Commissione Cheu, la Commissione di indagine sull'infiltrazione mafiose, più che Cheu, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, mi lascia molto, molto, molto basito da questo punto di vista. Ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce, secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché, a quello che sembrava, la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno, una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal CHEU saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizione si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione, che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi, spesso anticipava delle proposte che noi formulavano all'interno delle commissioni secretate, di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso. C'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione di inchiesta su rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato. Tutto questo denota un atteggiamento come, ripeto, autoassolutorio da parte di questa maggioranza che dalla nascita della Regione governa. Un atteggiamento di scarsa anche responsabilità nei confronti di quella commissione tra pubblico e privato che ci ha portato a una situazione che purtroppo ha danneggiato non soltanto le istituzioni ma i cittadini, le aziende. Una situazione in cui non sembra di vedere una inversione di marcia proprio perché appunto non appare una mancata consapevolezza, un tentativo di correre ai ripari e di insabbiare la questione piuttosto che analizzarle e fare un bagno di umiltà nei confronti anche delle proprie responsabilità. Infatti noi siamo oggi a discutere questa relazione dopo molti mesi che la commissione si è conclusa. Anche questo non è un caso purtroppo. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione è ammesso nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CHEU e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Cesare Beccaria oltre 250 anni fa diceva che il più sicuro sistema per prevenire i delitti ed è anche il più difficile è la cultura della legalità. Ecco perché anche oggi nella discussione in questi due giorni in Consiglio regionale sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEU abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione ai ragazzi, alla legalità perché le criminalità organizzate e le infiltrazioni mafiosi si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale, con la cultura della legalità. È anche vera un'altra cosa, ci dispiace che il Partito Democratico non abbia condiviso con noi, con le opposizioni, il ringraziamento va alla Presidente Meini e al collega Capecchi che in commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEU hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda vera è perché il Partito Democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni, perché il Partito Democratico ha scelto di presentare una propria relazione e non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta CHEU, sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi. Certo è che un elemento derimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del Presidente Rossi. Quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento CHEU si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario, allora la domanda è perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento. Ecco, noi continueremo a chiedere ancora verità, continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del CHEU sulle strade, per quei territori che hanno visto gli sversamenti in maniera inopportuna, inappropriata e anche in maniera illegale del CHEU sui territori. Chiederemo ancora bonifiche, chiederemo giustizia e chiederemo verità. Continueremo con la nostra azione, lo abbiamo fatto come Forza Italia in questi due giorni, partendo sempre da quello che è stato il nostro faro e il presupposto. Per noi sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio. Non abbiamo certo fatto una battaglia in consiglio regionale con le intercettazioni telefoniche, usando le intercettazioni telefoniche, ma siamo rimasti ai fatti. Partendo dai fatti abbiamo fatto la nostra analisi, partendo dai fatti abbiamo tirato le nostre conclusioni, partendo dai fatti chiederemo di continuare ancora, soprattutto su due feloni. Il primo è bonificare finalmente i siti che sono ancora oggi inquinati, il secondo è continuare nella ricerca della verità che per noi rimane un presupposto essenziale. Il presidente della Toscana, Eugenio Gianni, ha risposto in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega in merito all'istanza di autorizzazione per la realizzazione del rigassificatore a Piombino e ai contenuti della documentazione corredati, spiegando di aver detto no alla concessione Cosnam per 25 anni. Per Gianni l'operazione è infatti possibile solo se sarà una cosa temporanea e se ci saranno le condizioni per usare il porto di Piombino, che sarebbe la prima località d'Italia ad avere una nave rigassificatrice in città. Ma, appuntualizzato, prima di parlare di cronoprogramma di realizzazione, bisogna chiarire che il contratto non superi tre anni. Questa vicenda di Piombino in questi aspetti sta raggiungendo il grottesco. In questo caso Landi, persona che assolutamente io stimo, ma che è il portavoce dell'opposizione, esponente della Lega, chiede a me qual è il cronoprogramma. In questi giorni, su più giornali, è apparso che la sottosegretaria della Lega, Gava, ha pubblicato quello che è il suo cronoprogramma, che prevede che a marzo la nave di rigassificazione sarà già nel porto di Piombino. Delle due ed una, o si separino, perché nello stesso partito dicono due cose totalmente diverse, o altrimenti si incontrino, così che Landi può avere risposta dalla sottosegretaria sul cronoprogramma. Io su Piombino l'ho detto in questi giorni, e lo ripeto, fino a che SNAM non modifica la proposta di istanza per il posizionamento del gasificatore, che finora in data 29 giugno ha formulato di chiedere l'autorizzazione per 25 anni. Formulazione per me inaccettabile, che ho rimandato al mittente, perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord e del porto di Piombino, quella nave 25 anni non ci può stare, ci può stare al massimo due o tre anni per poter sopperire a questo periodo, il periodo di maggiore drammaticità, di emergenza da un punto di vista del gas. per in questi due o tre anni costruire una ulteriore piattaforma offshore, come c'è a Livorno, come c'è nelle altre due piattaforme che ci sono in Italia, cioè a 10-12 km dalla riva e lì rendere stabile per il corso del periodo che arriva a 25 anni la vita del rigassificatore. Ma finché non si scioglie questo nodo preliminare in cui SNAM accetta che nel porto di Piombino ci può stare al massimo tre anni, le altre cose e il cronoprogramma per me non sono oggetti da esaminare. Il presidente Gianni nella sua veste di commissario per l'opera del rigassificatore nel porto di Piombino continua a nostro avviso a sbagliare. Lo fa perché adesso sta facendo il gioco delle tre carte con la durata del tempo di questa concessione che SNAM dovrebbe avere per posizionare il rigassificatore ed avere la concessione sia sul porto che come offshore fuori dal porto di Piombino. Si è sempre parlato di due o tre anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel golfo di follonica come offshore. Quindi parlare di questi anni due o tre, la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Gianni, ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né tre anni né tre giorni. Noi continuiamo a pensare a quello che pensiamo dal primo giorno, cioè che una città come Piombino, che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione. Cioè mare e turismo non possa subire l'onta di una nave petroliera, metaniera di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per tre anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino, Ferrari, sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il governatore Gianni, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura, spero per una volta confido nel governatore Gianni, ma ho paura che l'aver accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa dal governo e da chi vuole quell'impianto. Quindi temo, Gianni fa bene oggi a porre criticità, ma purtroppo io credo che avrebbe fatto meglio a porle prima di accettare il ruolo di commissario. Io credo che oggi Gianni sia in una posizione dalla quale difficilmente potrà fare retromarcia e potrà evitare in qualche maniera questo scempio che è già stato deciso a tavolino. Mi auguro che Gianni voglia sostenere, accodarsi e abbracciare la protesta del sindaco Ferrari, ma soprattutto dei cittadini di Piombino ed evitare l'arrivo della nave metaniera.